Un saluto a tutti e ben ritrovati! Grazie a tutti! Tutto il gruppo Fiat, per cui Fiat, Alfa Lancia, chiaramente Alfa Romeo e Abarth soprattutto, ma anche veicoli commerciali e veicoli industriali. Poi abbiamo il reparto giapponese con Hyundai e con Nissan e con Infiniti, poi abbiamo Volvo, abbiamo Jeep e abbiamo le due chicche McLaren e Bentley per l'eleganza. Mentre la faccio dire sempre a lei perché è innamorata di Mentre. Tutte queste autovetture chiaramente producono un numero di autovetture nuove a vostra disposizione importante, ma anche un numero di autovetture usate a vostra disposizione. Tantissimo usato e oggi ve ne darò una carrellata abbastanza veloce, ma anche tantissimi chilometro zero di tutte le marche che vi abbiamo un po' anzi detto. Ricordiamo anche il sito perché l'avevo accennato quando non c'eri, ovviamente adesso che sei arrivato possiamo... Si era presa la scena, esatto. Ero solo io. Allora, auto usate, chilometri zero, guardate un po', tipologia, modello, potete fare proprio la vostra ricerca sul vostro fantastico tablet o sullo smartphone, insomma, come preferite. E iniziate già appunto a vedere che cosa c'è per voi qui al gruppo Fassina. Comunque vi consigliamo di venire a vederli personalmente. Anche perché vi aspettano 365 giorni all'anno. È vero, ricordiamolo, per chi non lo sapesse, ovviamente tutto lo staff è a vostra disposizione, a parte Natale e magari Pasqua, gliela lasciamo? No, anche per agosto. Anche per agosto, è giusto. Tre giorni li rilasciamo canonici, scherziamo, chiaramente siamo solidali con questi ragazzi che lavorano sempre per voi, però il motto dell'azienda è la passione ci guida. È vero. E per cui la passione, insomma, non la possiamo dimenticare, deve essere sempre alimentata, loro sono sempre a vostra disposizione. Per cui il numero che vedete in soffro impressione, chiamatelo perché è un numero dove potete trovare tutte le risposte, magari che non trovate neanche su internet, direttamente dal personale che è assolutamente consulenziale. Per cui se avete un usato, volete permutarlo, volete fare finanziamenti, insomma, tutto quello che... Qualsiasi tipo di informazioni potete fare telefonicamente. Io direi che possiamo cominciare a far vedere qualche macchina. Vai, certo, da dove partiamo? Partiamo da qua? Ma guarda, siamo immersi in un mare di autovetture. Abbiamo l'imbarazzo della scelta. Sì, fra l'altro questo negozio è proprio, io amo definirlo showroom, perché effettivamente ha anche un'eleganza tale, dove noi chiaramente stiamo a pennello, e ha un'eleganza tale che a volte è perfino esagerata per un salone di autovetture, perché partendo per tutto... È bello, davvero piacevole stare... Venite qua, anche alla domenica fatevi un giro e troverete sicuramente l'auto dei vostri sogni. Io direi Mario che dall'altra parte della telecamera, voi non lo vedete, ma c'è, è colui che muove i fili di tutto quanto. Ciao Mario! Partiamo da questo... È vero, non lo salutiamo mai però. Infatti, ciao Mario, grazie. Ciao Mario, ciao. Senza di lui noi non potremo fare nulla, non saremo nelle vostre case. Vai, Micra. E andiamo con una grande carrellata. Certo, vai. Nissan Micra a 100, 1200 del gennaio 2016, per cui una vettura che ha fatto circa un annetto di vita, a 19.606 km. Scusate, mi stavo salutando il signor Fassina che passa e non si può fare a meno di salutare. 19.606 km sono i chilometri reali dell'autovettura certificati. I 606 sono una dimostrazione proprio dell'attenzione e della puntualità con cui le autovetture vi vengono proposte, sia dal punto di vista di meccanica, chilometri certificati, ma anche di carrozzeria, perché sono tutte, praticamente anche l'usato come questa che vedete, è pari al nuovo di questa Toyota Yaris, per esempio, 1000 benzina, chilometro zero, del novembre 2016, con garanzia Toyota fino a novembre 2019, proposta a 11.500 euro. Qui abbiamo un'Alfa Romeo bianca, rimaniamo sul colore bianco oggi, guarda, ne vedo tante. Alfa Romeo Giulietta Distinctive, 1.4 turbo, 75.524 km, 12 mesi di garanzia, gennaio 2012 a 13.500 euro. La garanzia che viene data di default a 12 mesi può essere estesa su vostra richiesta, basta chiedere ai consulenti, c'è la possibilità di ampliare la garanzia e ampliare il periodo di serenità dell'utilizzo dell'autovettura. Anche questa, pari al nuovo, ricondizionata, fra l'altro questa anche automatica. Audi A3 Sportback, 1.6 turbodiesel, 110 cavalli del 2016 gennaio, proposta a 22.500 euro, con la garanzia ufficiale ancora della casa tubulistica fino a gennaio del 2018. I chilometri in questo caso sono 29.342. Tutte queste autovetture hanno la possibilità di essere acquistate dando impermuta al vostro usato, qualora lo aveste, ma anche utilizzando delle modalità di pagamento rateale che vi permettono di pagarle un po' per volta, avere una spesa dilazionata del tempo, che possono essere finanziamenti classici fino a 72 mesi o leasing se lo desiderate. Giulietta Turbo, 5 porte, benzina a 120 cavalli e un 1.4 di cilindrate, 1.0 km del 2016, proposta a 17.900 euro, più tra passo e più bollo, con la garanzia ufficiale Alfa. Torniamo ancora in Nissan, torniamo ancora in Giappone, 9.200 euro più passaggio per questa Nissan Micra Comfort, 1.2 benzina a 80 cavalli, immatricolata il 31 di ottobre del 2016. Qua andiamo, invece cambiamo abito, siamo sempre su una Micra, a 100, in questo caso, del gennaio 2017, con 10.200 euro più bollo da portata a casa. Tutte le autovetture che vedete hanno la possibilità, chiaramente su vostra richiesta, di avere un'assicurazione particolare a garanzia del valore dell'auto. Faccio un esempio, questa qua è un'autovettura del 2014, 14.900 euro, apre un finanziamento per l'acquisto dell'autovettura, c'è la possibilità di richiedere un'assicurazione che vi copre il valore dei 14.900 euro per tutta la durata del finanziamento in caso di furto totale. Per cui, ripresentandosi verso il gruppo Fassina per un acquisto, c'è la possibilità di riavere i 14.900 euro, che non è male. C-Max Titanium TDCi del 2014, 41.700 chilometri, a 14.900 euro più spese di trapasso, 12 mesi di garanzia. Suzuki Jimny Evolution 1.3 VTI, 21.272 chilometri, a 12.500 euro. Alfa Romeo New Giulietta 1.4 Turbo Benzina, immatricolata a novembre del 2016, a 18.900 euro più il bollo, questa con garanzia ufficiale della casa fino a novembre del 2018. Questa è molto particolare, molto carina, soprattutto per il bicolore che la contraddistingue, è una Renault Captur Zen 1.5 DCI, agosto del 2016, immatricolazione, 17.900 euro più passaggio in questo caso. Alfa Romeo Mito, S&S, 178 cavalli, 1.4 autovalvoli, chilometro zero, dicembre 2016, a 12.900 euro più bollo. Chiudiamo con Vieni Mario un'altra Alfa Romeo Mito Distint, 1.4 benzina, maggio 2016, a 13.400 euro, e una Fiat Abarth 595 Turismo, 1.4 turbo benzina, 17.379 chilometri, a 18.8 e ci spostiamo Mario verso l'altra parte per vedere delle altre autovetture. Eccoci qua, di fronte a una bellissima Fiat 500X Popstar 1.3 multijet, novembre 2016, a 18.900 euro più immatricolazione. Mi piacerebbe veramente portarvi negli altri piani, i due piani superiori e il piano interrato, per farvi vedere la vastità delle autovetture, però magari Mario, chiediamo alla regia se mentre io sto parlando qualche panoramica degli altri piani ce la possono fare, giusto per darvi un'idea di quelle che sono le dimensioni di questa struttura e delle grandissime opportunità che ci sono all'interno di essa, per cui la possibilità di trovare veramente tantissime autovetture, per cui è quasi impossibile venire qua e non trovare l'auto dei vostri sogni, per cui via Rona numero 15, vi aspettano numerosissimi. Audi A3 Sportback Ambition 1.6 TDI con 15.243 chilometri, 243, ricordatevi quello che vi ho detto, poc'anzi sui chilometri certificati, marzo 2016 a 23.900 euro con garanzia ufficiale della casa automobilistica Audi fino a marzo del 2018. Jeep Renegade Longitude 1.6 Multijet 10.260 chilometri, marzo 2016 con garanzia ufficiale anche lei fino a marzo del 2018 a 21.200 euro diesel, questa è una vetturetta molto interessante. Hyundai i10 login è una 1000 di cilindrata, chilometro zero dicembre 2016 con 9.900 euro più bolla portata a casa. Quando vi parlo di chilometro zero, credetevi, la disponibilità è tale che potete anche scegliervi colore, non è che ce n'è una di queste, ce ne saranno probabilmente 15, 16, 20, come di questa lancia Y Silver che vedete in questo bellissimo color rosso, settembre 2016 in matricolazione, chilometro zero a 10.400 euro. Avete notato che non vi dico mai gli accessori, ma non perché voglio omettere qualcosa nella trasmissione, ma perché vi voglio, perdonatemi il virgolettato, educarvi ad andare sul sito dove potete veramente vedere le specifiche dell'autovettura, della singola autovettura come contenuti, ma avete la possibilità veramente di trovare il massimo della resa con una telefonata. Chiamate il consulente, dite, guardate, ho visto in televisione questa splendida lancia Y rossa, mi dà qualche informazione in più, io avrei un usato da rimpermita, io avrei la possibilità di fare magari la necessità di fare un finanziamento, cosa mi propone? Ecco, i consulenti di vendita del gruppo Fassina, che vi ricordo, dal lunedì alla domenica a vostra disposizione, sono veramente in grado di trovare la soluzione più corretta per rispondere a tutte le vostre esigenze che avete in campo automobilistico. È quasi, ripeto, impossibile venire qui e non trovare l'auto dei propri. i sogni. Arianna, siamo quasi arrivati verso la fine, Mario cosa mi dici? Sì, manca davvero un minutino. Allora, un minutino lo dedichiamo. Intanto a questa bellissima Fiat Panda, Lounge, 1.3 Multijet, 95 cavalli, 14.212 km, febbraio 2016. 2018? 2016 tesoro. Ah, scusami, è la garanzia, hai ragione, hai ragione. 11.600 euro, questa è un'autovettura, una delle tantissime Panda a vostra disposizione. Per esempio, c'è una grandissima concentrazione di Fiat 500, hai in mente una 500, pensi a una 500, che sia grande, lunga, alta, qui dentro la trovi. Per cui c'è veramente, è veramente difficile non trovare l'auto dei propri sogni. Del resto, la passione ci guida, il motto del gruppo Fassina, lo troverete, lo toccherete con mano quando vedete qua. Allora, vi aspettiamo, via Rona numero 15, il gruppo Fassina con tutti i suoi marchi. Quattro piani di vettura a vostra disposizione, in via Rona 15, con il parcheggio privato in via Corleone. E siamo veramente a due passi da Corso, cioè, siamo in Corso Sempione, praticamente, chi conosce Milano sa che siamo in centro. Vi aspettiamo numerosissimi, grazie Arianna. Ciao Dani e grazie a voi, vi aspettiamo. Ciao. Alla prossima. Ciao. Alla prossima.